Ciao a tutti ragazzi, allora Io Oggi volevo filmare sto video Per Insieme a voi volevo Sbloccare Ste casse qua dei passi E Sto coso di diamante Il grotto Mentre qua abbiamo fatto tutto come vedete Leggettoni beast Trenta gemme Questo che infatti Adesso guardate Cosa Ce l'ho Scusatemi se non Ve l'ho potuto fare vedere Solo che ci ho messo troppo tempo Infatti adesso Per colpa di sto aggiornamento bruttissimo Che hanno messo Li hanno mescolati Insieme A quelli bloccati Magari io mi confondo Cioè mi confondo ogni tanto Ma io mi immagino uno Che ne ha tanti Li personaggi E tipo vuole scegliere Prende questo bloccato Spara questo bloccato Vabbè Non avete capito no? Poi i miei preferiti sono questo Questo e questo Mitici Questo Vabbè adesso Direi di cominciare subito Perché in sto video Perché in sto video Non Cioè non Andremo A sbloccare Tutto questo Da qua Stacchistica E poi E poi Il Mr. Beast Dorato Ma Ecco Fino a sto punto qua Che vi sto Dicendo Ora Per non farvi Annoiare Troppo Direi di farvi solo Vedere la finale E Vedrete come me la passo Eccoci ragazzi Allora Siamo alla finale Speriamo di vincere Perché almeno ci danno Delle gemmozze E Ma tanto Io sono Il pro di pro Su Blockdash E Allora E mentre L'altro giorno E Mentre non stavo filmando C'è Ho triccato lì Ed ora La finale Ho triccato lì Ce l'ho fatta Ma Già un po' normale Abbastanza Credo Spero E Ok Vediamo Oh no 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 Si è bloccato Ah Ok Ok Speriamo di Non perderla Ok Tanto qua Finora è ancora Tutto facile Ok No Si 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 Che fortuna Allora Allora In mentre L'hanno Ma cadi Si La banana Sta perdendo Oh raga Mi sa che vinco Se magari riesco Se magari riesco Visto Ah Che bello Vincere Adesso In cambio Dorebbero darci 50 gemme Vero Andiamo Si si Grazie Lo so Ah Eccole Ok Infatti adesso Guardate quante gemme C'ho Qua 178 Mentre Quando non facevo I tornei Tipo ieri Ne avevo Meno di 50 gemme Io Ero Un povero Adesso Direi di andare avanti Con i tornei E farvi vedere Come sempre La finale Che è sempre Quella più Bella Da vedere Eccoci Ragazzi Alla finale Finalmente Questa si Che invece Durata tanto Quindi Cioè Non so Se Riusciremo A vincerla Spero E credo Di si E mentre L'ho Chillato io Quella persona Oh Che vuoi Raga C'è sto Bullo No raga Mi vuole Bullizzare Perché mi dai pugni Cioè Manco i dinosauri I dinosauri Che io Gli ho Istinti Praticamente Mi danno Così tanti pugni Anzi Sai cosa Ti è No 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 Raga Attenzione Che lui Ha il pugno Non più Vabbè Capita E mentre Ci hanno dato Ah i piedini Eh si Piedini Ciao Ce ne hanno dati Ok Riscuoti E dai Carini Vabbè ragazzi Spero che Per questo video Vi è piaciuto Per questo video E nulla La prossima volta Arriveremo A sto Mister Beast Indiamantato La tigre The best The beast E Nulla Magari Mi Porterò Di pochissimo Avanti Tipo Fino a qui E nulla Ragazzi Spero che Questo video Vi sia piaciuto E Ciao